Lucilla Calzolari, 66 anni, pensionata e sposata da una vita con Ruggero e ha due figli adulti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché desidera portare il proprio piccolo contributo al cambiamento del nostro paese, affinché onestà, giustizia ed uguaglianza sociale ne possano diventare il fondamento. Questo è il Movimento 5 Stelle. Sogna con De Pasquale Sindaco di vedere una Carrara nuova, liberata da decenni di immobilismo amministrativo, finalmente a misura di cittadino.